Oggi ho deciso di andare a ritrovare una vecchia conoscenza, una beccaccia che è qui da tanto tempo, ma visto le potenzialità olfattive della Zara ho pensato che magari arrivandogli a distanza di poterla avvicinare, per no meno di poterla vedere. Il problema di queste beccacce, beccacce impaesate, è che a volte ti danno mezza occasione, a volte te ne danno una, a volte neanche te la danno. Oggi mi hanno dato l'occasione e guardate un po' che gli ho combinato alla cucciolona. Grazie. 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 presa davvero brava zara non lo so non lo so non lo so zara non c'è neanche a questo viaggio bravo sei stata bravissima dire un possibile un impossibile non c'era verso eh che roba eh bravo fabrizzi succede anche questo ora sono le 15 io ce la fu più buona visione e grazie grazie a tutti Grazie a tutti.